Oggi vediamo come guadagnare online, tanto per cambiare, sfruttando l'intelligenza artificiale e Amazon. Abbiamo già visto queste cose in questo canale, iscriviti, c'è la playlist corsi completi gratis, vattela vedere, te la metto qui nelle schede. Lì c'è il corso completo su come scrivere un libro, proprio ti faccio vedere che lo scrivo, lo pubblico su Amazon e ci guadagno. C'è la masterclass in scrittura, come scrivere con CiaGPT, come scrivere con CiaGPT4 e come vendere poi, ottenere realmente delle vendite, quindi come organizzare il tutto, la pubblicazione, il rilascio del libro, la descrizione e tutto quanto. Vatti a vedere quei video, iscriviti al canale se ti interessa guadagnare online. Io sono Michele Maraglino, per chi non mi conosce lo ripeto brevemente, faccio business online dalla fine del 2016. Nicchia musica ragazzi, quindi sto lì nel mio mondo, apro la mia casa discografica, l'ufficio stampa, lavoro, poi a un certo punto dico Ehi, ma io voglio guadagnare di più, come faccio? Mi metto online, inizio ad insegnare quello che ho imparato, no? Creando la mia etichetta discografica, promuovendo decine e decine di band, ok? Posso insegnare alle persone che vogliono fare il mio stesso percorso attraverso videocorsi impacchettati e consulenze Quindi apro un canale YouTube, Michele Maraglino Music e sto tranquillo nel mio mondo Però a me piace il business, mi piace chiacchierare di denaro E alla fine, dopo tanta insicurezza, nel marzo del 2022 apro questo canale dove condivido gratuitamente tutto quello che ho imparato Cioè ragazzi, non è che io, non è che io vi vendo dei corsi sul business online e il mio business è vendere i corsi Che pure anche lì avrei delle skill che potrei condividere Ma non è questo il caso, qui abbiamo un canale YouTube super, super disinteressato Cioè c'è una persona che fa il suo business, io veramente ho il mio business Tra l'altro voglio fare un video perché il mio business va da solo Cioè chi mi segue lo sa, io mi sono molto concentrato nel far crescere questo canale E negli ultimi, cioè nell'ultimo anno, ho quasi abbandonato l'altro business Che comunque mi produce migliaia di euro ogni mese Perché ci ho buttato il sangue tanti anni E proprio quel buttare sangue lo condivido qui tutto quello che ho imparato Quindi di là vado quasi passivo e qua sto costruendo un'entrata secondaria alla fine Doveva essere appunto un canale che mi permettesse di condividere, appunto di parlare di business E' quello che mi piace, ma poi subito è partito a bomba con i guadagni E io non è che mi sottraggo se una cosa mi porta a guadagno E soprattutto è bello quando ti arriva senza che te la stai cercando Ma avete cominciato a chiedermi le consulenze Poi sono arrivate le aziende, abbiamo fatto le collaborazioni Facciamo collaborazioni, 2-3 consulenze a settimana A 150 euro l'ora, cioè manteniamoci in basso 2 consulenze a settimana di media Ok, 300 euro a settimana, 3 per 4 siamo a 1200 euro Pazzesco, lavorando 2 ore a settimana Questo è YouTube, io ve lo voglio, io ve lo voglio Cerco di trasmettervelo in ogni video Anche nei video in cui non parlo di YouTube Ma è YouTube il cuore che mi batte Non so se questa frase ha senso Però è lì che c'è l'opportunità E non c'è l'opportunità nella monetizzazione Mannaccia a voi, ok? C'è in tutto il resto consulenze Io ancora non ho creato dei corsi, dei prodotti da vendervi qui Collaboro con i ragazzi di The Serva Academy E lì prendo una percentuale, ok? Però quello non è un servizio mio Ok? È un servizio con cui collaboro In cui credo, credo che sia una grande opportunità E ve la condivido E poi, poi ci sono le collaborazioni con i brand Ci sono le affiliazioni E poi, giugno 2023 Arriveremo a superare i 1000 euro di pubblicità Monetizzazione attivata Ed ecco che è arrivato Ed ecco che è diventato un business YouTube Però ci ho messo la faccia E ci ho messo le mie competenze Ok? È questo che vi consiglio di fare online Però, torniamo a Bomba Oggi Quindi, se ti interessa il business online Per farla stretta Qui, io condivido la mia esperienza Completamente disinteressato Non ci sono corsi, non vedo niente I corsi sono gratuiti su YouTube Quindi, vieni ad abbeverarti alla mia fonte È tutto gratis Ti chiedo solo di iscriverti Iscrivetevi ragazzi e commentate Oggi il commento che dovete mettere è Michele, mi sto abbeverando alla tua fonte Grazie Sono sempre più lunghi Comunque, veramente, io vi ringrazio Ogni volta che vi chiedo i commenti Voi, me li lasciate tantissimi E il canale ha un boost incredibile E quindi, grazie Commentate Michele, oggi mi sto abbeverando alla tua fonte Commentate, commentate così mi aiutate Veramente a voi non vi costa nulla Io vi do tantissimo valore E robe imparate anche su corsi pagati Migliani e migliani di euro Qui tutto gratis, ok? Mi raccomando Allora Metodo di oggi Scriviamo libri su CiaGPT Il problema di scrivere libri su CiaGPT È che, almeno sulla versione gratuita Devi fargli fare l'indice Vatti a vedere Io ho già spiegato queste cose Negli altri miei video Vatti a vedere la playlist Ci sono tutti i corsi completi La playlist si chiama Corsi gratis completi Guadagnare online da zero Guardate, la metto anche qui nelle scritte Il problema è CiaGPT 3.5 gratis Scrivimi un indice per un libro Ok Poi sviluppami ogni capitolo Però È un po' sempre risicato Ok? Devi smatterti Poi si blocca E quindi non è facile Ma ci mancherebbe altro Ovviamente Bisogna sbattere Se non è che ti regalano i soldi Se tu ti sbatti Ti impegni E crei un libro Che risolve un problema E lo fai scrivere bene Da CiaGPT Poi lo metti su Amazon Amazon te lo vende Se l'hai fatto bene la descrizione Se l'hai fatto bene tutto Come ho spiegato in altri video Vatti a vedere Sempre con la playlist Poi otteni delle vendite Passivamente Il libro che io ho scritto Ti ha superato i 90 euro di introiti E Scritto a cazzo Se può dire A cazzo Riceve anche recensioni positive Cioè secondo me CiaGPT scrive meglio Di Dei Pakistani O Bangladeshini Non so come si dice Che tu trovi su Fiverr Io prima facevo Quando Facevo più assiduamente Il Kindle Publishing Pagavo 200 euro Per Libri E quindi Scritti da persone Che neanche conosco E poi c'è la gente Che si indigna Perché Oh l'ho scritto CiaGPT Chissà Amico mio Ti fermo subito CiaGPT scrive meglio Di qualsiasi Secondo me Del 99% Delle persone E' un'intelligenza artificiale Ragazzi Ok Quelli che dicono No non si può Antiplagio E' un'intelligenza artificiale Abbiamo creato la macchina Noi abbiamo le gambe E camminiamo A un certo punto Volevamo andare più veloci Come ci spostiamo Abbiamo creato il motore La ruota Vede presente E cammini Ok Allora abbiamo creato Perché comunque Ci vuole tempo L'evoluzione L'uomo ha creato anche un cervello Per andare più veloce Mentalmente E quello che ciaGPT E' un cervello E' come se tu hai una persona E gli dici Fammi questo Uno schiavo Però almeno Non è una persona E' uno schiavo Digitale E' un software Spero che il microfono Perché è la terza volta Ok sì Tanto mi viene E' un software D'intelligenza artificiale Che è al tuo servizio Ed è gratuito Io non lo so Se veramente E' il caso Di ancora lamentarsi Perché queste O io leggo Veramente in giro Apro una parentesi I giovani Non trovano lavoro Il mondo è uno schifo Ho visto un post L'altra volta Di Indiclone Avete presente Che diceva Che i guru Che dicono Che se sei povero È colpa tua È sbagliato La gente Oppure quelli che dicono Che Oh Galimberti Dice che La loro generazione Era più fortunata Perché vedevano futuro Noi giovani O quelli più giovani Non vedono futuro Che cazzo Stai dicendo Ma mio padre Non ce l'aveva Cia Gpt Mio padre Non ce l'aveva Facebook Ma io Ho quel business Lì che mi vada solo Perché quando è uscito Facebook I lead costavano 10 centesimi Ok Io ho una lista Di 20.000 email Che mi sono costruito Con pochi euro Dove eravate Quando costavano 10 centesimi Stavate cercando lavoro È normale Che adesso siete poveri Scusate se mi infervoro Però quelle opportunità Forse la gente Non si rende conto Perché si aspetta Però chiunque In questi anni Ha avuto Una mentalità Imprenditoriale Non da pecorone Da dipendente Ha prosperato Mi dispiace Ma voi ancora sognate Vabbè Chiusa parentesi Cioè secondo me E poi dopo Ovviamente poi È arrivata tanta gente Adesso la pubblicità costa tanto Però non ci siamo fermati Adesso c'è Cia Gpt Completamente gratis Grati Allora Ma io l'ho detto in altri video Ha fatto molto di più Canva Canva.com Ha creato molti più posti di lavoro Di qualsiasi Di qualsiasi Manovra Del governo Vabbè Chiusa parentesi Scusatemi Torniamo Non mettiamo la politica in mezzo Sono solo una persona Estasiata Dalle opportunità Di questi anni E se tu non le vedi Non mi seguire Io le vedo E ci lucro Se tu non le vedi Segui qualcun altro Guarda la televisione Pericolosissimo Io ti dico Spegni la televisione Perché lì Il vero scam E Ok Va bene Torniamo a noi Quindi Scrivere libri Qual è il problema Ve l'ho detto C'è la GPT Si blocca Quant'altro E bla 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 C'è più macchinoso Ovviamente Però adesso Ti voglio dare una chicca Ancora per semplificarti Il lavoro Un metodo Che puoi fare Che ti fa scrivere I libri In due secondi Qual è questo metodo Scrivi una raccolta Di Racconti Una raccolta Di racconti Qual è il problema Di questo metodo È che I libri Che devi creare Si sa Nel kindle publishing Devi creare libri Che risolvono un problema Dei manuali Che risolvono un problema Ok Perché quelli Non è che devi scrivere romanzi Per scrivere romanzi E vendere romanzi In bocca al lupo Devi essere il più grande Lì forse c'è bisogno Di uomini veri Ma per scrivere un manuale Per risolvere un problema In qualsiasi nicchia Ti basta C'è GPT Che va più che bene Ok E quelli vendono La gente La gente cerca soluzioni Si prende il suo libro Se lo legge Quindi se tu li impacchetti Sotto forma di libro Una soluzione Quel libro ti venderà E se tu scrivi tanti libri Avrai i tuoi guadagni mensili Passivi Ok E allora come facciamo Michele Perché il racconto È semplicissimo Gli dici Scrivimi un raccolto Ne metti insieme Dieci Ne metti insieme E venti E hai fatto il libro In modo molto semplice Però poi Vivendo questi racconti Bene qui l'idea Scrivi comunque Dei racconti Che sono legati A delle nicchie Che comunque Servono alle persone Dei racconti Che possono servire Ad ispirare Le persone Già Essere ispirati In un qualche argomento Può essere già Un qualcosa Che ti serve Quindi può essere È un libro di fiction Ma utile Mi viene in mente No Sono su Cia GPT Scrivi un racconto Su Di un uomo Che Nella povertà Più Assoluta Riesce a creare Un'azienda Milionaria Ok Quindi Puoi scrivere Il libro Dieci Dieci Storie Di imprenditori Partiti da zero Ok Queste sono idee Oppure Nel mondo degli animali No Ci sono gli amanti Degli animali Mamma mia Ci sono quelli Io ho un gatto Carota Petto arancione Che grande Non l'ho dato Io l'ho dato La mia compagna Il nome carota Ok Sono intratto in questo mondo Io non amavo gli animali Cioè non ero Non che non amavo gli animali Non è che Andavo a menare in giro Cioè ero completamente indifferente All'argomento animale Però Questa mia Questa mia cosa È cambiata Con appunto La mia compagna Il suo amore per gli animali Me l'ha un po' Infettato Anch'io Adesso Cioè I gatti Sono la cosa Cioè Sono la cosa Più Più bella del mondo Ok Allora Quanto amore c'è Quanto amore c'è Per gli animali Potete scrivere Dieci storie Di gatti Che Cioè Partite da condizione Il trucchetto qual è Scrivi Delle storie In cui c'è un qualcosa Che parte male E finisce bene Prendendo Come argomenti Comunque nicchie Che possono essere Diciamo Dove ci può essere interesse Quindi gli amanti degli animali Rimetti 20 storie di gatti Che stavano morendo E poi sono guariti Non lo so Ok E ci scrivi un libro Di racconti Oppure dieci storie Di imprenditori Che ce l'hanno fatta Oppure dieci storie Di coraggio Uomini coraggiosi Tutta la parte Tutto quell'ambito Della crescita personale Quindi puoi ispirare Con persone Che hanno avuto coraggio Quindi dieci storie Di coraggio Guardate Il racconto qui Facciamo continua Perché si è bloccato Però ci mette poco Cioè Poi lo copi Lo incolli Ti prendi il template Da Amazon Li metti tutti lì Gli racconti Ed è il modo più semplice È molto più semplice Scrivere Scrivine un altro Per scrivere un libro Scrivine un altro Di racconto Spero che l'abbia cambiato Ecco ti un altro racconto Bam 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 Li raccogliete Li impaginate Andatevi a vedere il corso Praticamente Per fare tutto questo Per Come funziona Anche poi Il KDP Amazon Come caricare il libro E quant'altro Lo trovate C'è il corso completo E credo sia il video Più visto Quel corso Il video più visto Di questo canale Quindi mi basta andare Nella mia home page E andare nei video popolari Il primo Ah si sto Ok ragazzi Fatevi sapere Che cosa ne pensate Di questo metodo Iscrivetevi al canale Se questi video vi sono utili E vi ispirano Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao